Perché gliel'hai detto? Dobbiamo uscire! Pfeiffer, è stata una mia idea, ok? Pfeiffer, aspetta, aspetta, ti prego! Vuoi ascoltarmi? Pfeiffer! Pfeiffer, è stato noi, chiuderli! Becco un secondo, hai già fatto abbastanza! Questo spettacolo è imbarazzante! Sta zitto! Metterai in imbarazzo tutti! Bisogna fermarlo! Pfeiffer! Ryan! Che c'è? Quel cappio l'ho tolto io? Reese, io l'ho tolto, mi hai visto farlo, amico? Le scale? Potete smetterla di prendermi in giro, non ha divertente! Non ti stiamo prendendo in giro! Che cosa avete fatto? Ssh, sta zitta! Non mi dire di stare... Smetti la Pfeiffer! Che facciamo? In segreteria, lì c'è un telefono. Ryan! Sapete proprio tutto dei film? Vediamo un po'. Sapevate già che il film Rocky del 76 è stato girato in solo 28 giorni? Sì! In più, Sylvester Stallone era così povero prima di girare questo film che fu costretto a vendere il suo cane per 50 dollari, non ci posso pensare. Però lo ricomprò poi per 3.000 dollari una settimana dopo, subito dopo aver venduto la sceneggiatura di Rocky. Tiè, io non lo sapevo, voi? Fatemi sapere e scaricate la nostra app, come sempre, sia per iPhone che Android. E ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!